regalato e averci regalato il vostro tempo, le vostre emozioni, veramente io non so, grazie come ringraziarvi, grazie a te Silvia per aver partecipato a queste idee, il foglio e da matti soprattutto in questa terra, grazie a te Carmen ma di tutto cuore e noi speriamo che questa sia solo la partenza, un piccolo seme, poi dobbiamo diventare grandi frutti ragazzi, altri frutti, grazie, ma di fuori di questo voglio aggiungere un'altra cosa, Silvia ha detto che ci siamo incontrati per anime, ci siamo incontrati per anime, quindi significa che chi ha scelto di stare qua è perché sente qualcosa dentro, che si muove o che va o non va in un'altra direzione, ma tutto questo nasce anche da quello che è stata la costituzione di un'associazione di quattro pazzi scalmanati, sono quattro ragazzi che hanno 20 anni, Stefano, Peppe, Manuele e Luigi che voglio con me qua, sono state la motivazione per dire come dobbiamo rinascere e si rinasce da loro. Questi ragazzi però, per precisare una cosa, non sono solo di Piano di Sorrento, c'è una fetta di Piano, di Meta, di Santaniello, di Sorrento, la penisola è unica, noi ancora oggi facciamo distinzione tra i comuni, noi siamo unici e tutti insieme possiamo diventare qualcosa, però basta crederci. Grazie. Fabrizio e Silvia sono i padrini e la madrina rispettivamente dell'associazione. Che faccio? Mi do soffi. C'è una bella iniziativa che abbiamo preso, facciamo uno dei Paolo Spiri insieme a Silvia, volevamo fare, siccome partirà la Masterclass 13, questa è appena partita, ho fatto già due lezioni e altre sei, la 13 parte l'11 aprile? Esatto, sì. Quindi sto dicendo la cosa giusta.